un grande attore se parlo sì, ho capito allora, ti ho disgraziato la prego non si rivolga così ai costi del lavoro hai visto il lavoro? questo è un genio allora, lui mi ha siccome io gli ho ucciso la fidanzata la cucina mi comprende lo riposo cinematograficamente ma io vorrei precisare è un ruolo un po' pedante il mio dopo aver ammazzato 5 persone 5 persone no aspetta, 6 persone e mezzo perché al pacino l'ho finito alla fidanzata che ha fatto? mi ha sparato io ho visto tua figlia androcchia no one more no one as best no, loro sono italiani sì, ma glielo dice Bruna tu orde poi lui è stato contento adesso vi faccio una cosa molto spiritosa molto bella lui è sempre ben trattimato allora che è successo che non contento di avermi sparato una volta volendo essere sicuro che avrebbe ucciso mi spara un'altra volta sempre più capito belli così poi che è successo allora il cappuccione di Marana che ha fatto? è tornato la mia caccia in faccia che te fosse che te puoi che ha detto mi è finito poi dopo dopo io ho fatto la vita di essere morto sul serio ricordasi? io sono morto no? non so però mi sembra allora è venuto là ha detto Mario Mario che passa? io niente stavo lì Mario por favor contesta che passa? io sono morto allora Mario por favor allora ha fatto che chiesto? che chiesto? mi ha abbracciato e dopo mi deve venire abbracciato dopo tanto allora grazie grazie grazie